Una lunga lettera indirizzata al vicepremiere e ministro del lavoro Luigi Di Maio per illustrare il sistema di illegalità e sfruttamento del lavoro presente in modo sempre più virulento nel tessile abbigliamento di Prato e per chiedere un incontro finalizzato a mettere a punto forme di contrasto più efficaci. Il documento è firmato dalle associazioni artigiane CNA e Confartigianato e dai sindacati tessile CGL Cislewil, ma non da Confindustria Toscara Nord, che pure in passato ha condiviso altre battaglie in nome della legalità e stavolta si è sfilata dall'iniziativa. Forse negli industriali c'è una sensibilità diversa sul tema e questo è l'unico commento che artigiani e sindacalisti, interpellati sul caso, si sentono di fare sull'assenza pesante di Via Valentini. Da Confindustria Toscana Nord si sottolinea che il tema del contrasto all'illegalità è condiviso, ma non lo sono state le modalità che hanno portato alla stesura e alla firma del documento. Nella lettera a Di Maio, che sarà recapitata alla vigilia del quinto anniversario del rogo alla Teresa Moda, si ricordano il piano lavoro sicuro e i protocolli che negli ultimi anni sono stati sottoscritti in prefettura e che hanno portato, su sollecitazione delle categorie economiche e delle parti sociali, ad affinare i controlli interforze. Ma il sistema di illegalità non si è arrestato ed anzi prolifera, così come riaprono aziende sospese dopo i blitz. E soprattutto, denunciano i firmatari, non è chiaro se per mancanza di volontà politica, per l'inefficacia delle procedure o per l'indicazione degli obiettivi, a Prato non vengono applicate regolarmente leggi che potrebbero debellare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro, ovvero la nuova legge sul caporalato e la responsabilità solidale dei committenti. Io so soltanto che noi lo diciamo da 15 anni. Abbiamo fatto una causa pilota che è durata dal 2011 al 2016 e l'abbiamo vinta. Abbiamo fatto un contratto nazionale degli artigiani inserendolo nel contratto nazionale e a dicembre del 2017 è uscita un'assistenza della Corte Costituzionale che ha sancito che la responsabilità solidale non vale solo negli appalti, ma vale anche nella subfornitura e nel terzismo. La domanda è perché vale da tutte le parti e non vale a Prato e non viene applicata da parte dell'Inps pratese? Le richieste sono quelle semplicemente di applicare le leggi, poter in qualche maniera dare valore al lavoro legale di quelle imprese che quotidianamente si confrontano col mercato e con tutta quella serie di normative e di adempimenti che le tengono in vita.